Sicuramente come sempre un livello di allenamento molto molto alto e anche una serenità che settimana dopo settimana stiamo acquisendo. Andiamo a giocarci una partita dove vogliamo provare a vincere come ovviamente tutte le partite che giochiamo, però anche con questa consapevolezza che i due punti potrebbero regalarci le finale di Coppa Italia e ovviamente per noi sarebbe un traguardo importante ma anche un traguardo a cui teniamo molto, un traguardo penso veramente di prestigio per il club, per il lavoro in palestra dei giocatori e per tutto lo staff che circonda la squadra. La Tina innanzitutto è terza in classifica e quando si è terza in classifica lo si è per meriti acquisiti. Ha una squadra profonda, più profonda rispetto alle squadre costruite da Gramenzi negli ultimi anni, una squadra profonda con ampia rotazione, con tanti punti nelle mani e con una facilità a giocare partite ai 100 punti. Questo non vuol dire che noi giocheremo una partita a basso punteggio ma sicuramente dovremo essere bravi a togliere le cose che loro vanno a cercare nei primi secondi di gioco. È una partita particolare, una partita che potrebbe essere anche molto spettacolare, molto bella, mi auguro da vedere e poi il risultato sarà ovviamente un qualcosa in più per noi, sarà importante ugualmente per loro, quindi una partita bella da tutti i punti di vista. La classifica, il risultato e speriamo anche, lo dico un'altra volta, il gioco che poi è l'aspetto più importante, cioè che chi viene a vedere una partita di basket si possa realmente divertire.